In un precedente video, questo qui per l'esattezza, abbiamo parlato di come guadagnare bitcoin gratis senza rischi. Oggi ti mostrerò come potenziare questa strategia su Yodler e guadagnare ancora più bitcoin. Per farlo utilizzeremo il cloud miner, cioè una sorta di miner che ci permette di guadagnare appunto bitcoin gratis. Se ancora non ti sei registrato a Yodler, qua sotto ti lascio il link per farlo. Utilizza il codice DEMSPARK scritto esattamente così, puoi anche scansionare se vuoi questo QR code. Lo scansioni, ti registri, utilizzi questo codice e riceverai 50 scintille gratuite in omaggio che potrai utilizzare per minare appunto i tuoi bitcoin. E tra poco vedremo nel dettaglio, non ti preoccupare come funziona. Minare bitcoin non vuol dire che ti consumerai la batteria del cellulare o del computer perché è un mining un po' particolare. Sono in realtà dei premi delle reward che distribuiscono Yodler agli utilizzatori della piattaforma. Però non ti preoccupare perché tra poco entriamo nel dettaglio. Qua sotto comunque il link e il codice è questo qui. Prima di partire però lasciami fare un disclaimer. In questo video vedremo una strategia basata sul trading. Usare il trading può comportare dei rischi. Quindi bisogna fare molta molta attenzione perché la prima strategia era sostanzialmente quella di neutralizzare il mercato. In questo caso andremo sì in un certo senso a neutralizzare il mercato ma ci muoveremo in un modo molto più speculativo in un certo senso. Perché? Perché saremo obbligati a fare trading. Sei pronto? Bene, cominciamo. Prima di tutto dobbiamo avere tutto settato su carta. E quindi ho preparato un file che ti condivido qua sotto, te lo lascio qua sotto nei commenti. Entra in quel file e ti vado a mostrare quello che è lo short di copertura che utilizzeremo. Perché la strategia si baserà proprio sullo short di copertura. Qui ti ho preparato un file, ora ti spiego bene come funziona. Voglio però prima mostrarti a livello tecnico come funziona la strategia. Allora, Uodler ha quello che si chiama Cloud Miner. Il Cloud Miner ci dà ogni tot tempo, a seconda del nostro livello su Uodler, dei premi in Bitcoin. Quindi ci permette di accumulare di fatto dei Bitcoin. Quanti? Dipende dal livello che abbiamo. Se siamo a un livello base, livello jumpstart, livello silver e così via. Man mano che saliamo di livello, più Bitcoin possiamo ricevere e più frequentemente. Utilizzando quelle che si chiamano appunto le spark, le scintille. Ora, come funzionano queste spark? Ogni tot spark io posso andare a minare dei blocchi, tra poco lo vediamo, in base appunto al nostro livello. Come salgo di livello? Facendo trading. Quindi se io faccio volume di trading, salgo di livello. Ecco perché ho detto che faremo leva sul trading per aumentare di livello, cercando di rimanere il più possibile neutri sul mercato e quindi proteggere il nostro capitale. Cioè puramente l'obiettivo di questa strategia è scalare i livelli, quindi fare volumi di trading, ma volumi di trading tra virgolette nulli. O con un piccolo ritorno percentuale con l'obiettivo di scalare i livelli e ottenere più spark. Perché le spark vengono distribuite ogni tot volume di trading che andiamo a fare. Più spark ci permettono di sbloccare più blocchi. Livelli maggiori ci permettono di sbloccare più premi in Bitcoin. Quindi tutto parte dal trading, dai volumi del trading. Utilizzeremo questa strategia che ti mostro tra poco per spingere in su i volumi, quindi salire di livello, ottenere più spark e ottenere più Bitcoin. Inoltre abbiamo un bonus aggiuntivo perché salendo di livello andiamo a sbloccare anche degli interessi maggiori che ci paga la piattaforma. E anche in questo caso tra poco ti mostro come fare. Ora andiamo a vedere velocemente il Cloud Miner che cos'è, così da avere un'idea. Io vado qua su YouDoddler, Cloud Miner, eccolo qua. Abbiamo questa roba qui. Questi sono blocchi che posso sbloccare. Come vedi ce ne sono diversi. Si sbloccano. Quelli che posso usare io attualmente, perché sono jumpstart, sono questi qua. Gli altri si sbloccano man mano che saliamo di livello. Qui abbiamo le scintille che possiamo usare proprio per minare questi blocchi ogni tot tempo. A seconda del livello, andiamogli a vedere, io posso ottenere più cose. Come puoi vedere qua, chi entra a fino a 3 dollari di profitto dice qui un pacchetto di benvenuto di 70 spark più i 50 che avrai se utilizzi il mio bonus qua sotto. Avrai scintille gratuite ogni 8 ore per un tempo limitato, se non sbaglio, di 2 settimane. E poi dei blocchi disponibili, 4, potrai minare 4 blocchi. Poi c'è il livello base e così via. Si sale, io attualmente sono jumpstart. Livello jumpstart, hai un pacchetto di benvenuto. Ogni volta che scali di livello ti danno degli spark aggiuntivi. Hai scintille gratis ogni tot tempo. Di nuovo blocchi disponibili e così via. Ora sto spingendo per raggiungere questo qua, il silver. Come puoi vedere qua, ho quasi raggiunto il volume di trading. Perché mentre fino al jumpstart non ti chiede assolutamente nulla, se non registrarti, avere almeno 100 dollari depositati, tra poco vedremo anche che cosa richiede, e nel caso del jumpstart accedere al multi-oddle, fare un'operazione al volo, da qua in poi ti richiede invece che cosa di fare volumi, quindi di fare trading. Ora, io qua in due giorni ho fatto più o meno questo volume qua, quindi sono a 47k sui 50k, rimanendo sostanzialmente neutro sul mercato, anzi in realtà è leggermente in salita perché ho sfruttato il movimento di bitcoin. Ora, ovviamente hai due strade per ottenere questi bitcoin gratis. O sei già un trader pro e allora fai trading qua su Yodler e ottieni i tuoi interessi. Oppure, se non sei tanto esperto, studi bene quello che ti sto per mostrare e vai ad applicarlo in piccolo, piano piano, per prenderci dimestichezze e pian piano crescere. Ovviamente quello che ti sto per mostrare non è da considerarsi consiglio finanziario, è semplicemente a livello didattico una strategia che si può applicare, che io sto applicando e che sto utilizzando proprio per minare sostanzialmente bitcoin gratis. Poi man mano che si sale ovviamente diventa sempre più interessante il tutto. Come dicevo però c'è un vantaggio in più. Infatti, come puoi vedere qua, su Yodler noi possiamo andare a ricevere anche degli interessi. Abbiamo un account di rendimento con APR fino al 15%, dipende da che cosa stiamo utilizzando. Ora andiamo su Jumpstart, andiamo giù e vediamo bene, ecco qua. Qua ci ti spiega tutto quello che bisogna fare. Il momento in cui ti registri hai immediatamente i tuoi 70 più 50, se usi il mio codice DEMSPARK che ti ho lasciato qua sotto. Il base devi depositare almeno 150 dollari e hai questa roba qui. E poi il Jumpstart e così via. Il Jumpstart è sull'account di rendimento un interesse dell'8% annualizzato su USDC, quindi su Stablecoin, sull'e-crypto invece del 2.5. Noi andremo a spingerlo in su ulteriormente, facendo che cosa? Utilizzando appunto il sistema che ti sto per mostrare. Sul Silver infatti, oltre ad avere premi più importanti sul Cloudminer, avremo anche dei tassi migliori. Perché avremo un 9% qui, un 3.5%, sale dell'1% e poi sul Gold arriveremo al 11 e 4.5%. Insomma diventa sempre più interessante. E il classico pacchetto di benvenuto, possiamo raggiungere fino a 0.001 BTC al mese di guadagno. Abbiamo analisi di mercato premium, quindi delle futures in più, puoi vincere dei biglietti del Torino e così via. Poi man mano che saliamo, vediamo diventa sempre più interessante il discorso, perché parliamo di interessi sempre più elevati, fino al massimo, ovviamente trommosso per competenza, di 5 milioni di volumi, dove possiamo vincere fino a 0.05 BTC al mese. Quindi stiamo parlando di oltre 3.000 dollari al mese. Abbiamo poi qua sotto, scorrendo un po', un interesse sul USDC del 20%, su Bitcoin dell'11%, quindi parliamo di gain interessanti. Ora, un passo alla volta, noi andiamo pian piano a scalare le posizioni. Come farlo? Lo faremo utilizzando quello che si chiama lo short di copertura. Cioè il nostro compito sarà quello di neutralizzare il mercato. Perché io devo fare dei trading volume, quindi dei volumi di trading, tali da permettermi di salire di classifica e contemporaneamente darmi degli spark che poi posso utilizzare per minare. Ora, per fare trading volume io devo fare ovviamente trading. Però sappiamo che il trading posso perdere così come posso vincere. Cioè se io vado long su Bitcoin e scende io perdo, se io vado short su Bitcoin e sale, perdo. Utilizzeremo quindi quello che ho chiamato lo short di copertura che ho mostrato nel primo video. Vallo a riguardare se te lo sei perso, però in questo video sarà un pochino diverso perché dovremmo speculare, quindi dovremmo fare trading. Ora, lo short di copertura come funziona? Che io compro un asset, esempio compro Bitcoin. Ho comprato Bitcoin, esempio un BTC. BTC lo tengo in portafoglio. Su Uodler un BTC che sto tenendo in portafoglio. Un BTC per dire BTC ma può essere qualsiasi quantità. I miei Bitcoin che tengo in portafoglio mi danno dell'interesse. Attualmente al jumpstart il 2.5% annualizzato. Man mano che saliamo aumentano. Quindi averlo fermo mi genera interessi che è già buono. D'altra parte andrò short sul mercato per far che cosa? Per andare a neutralizzare la posizione. Perché se qua mi va giù, io comunque sono in profitto in termini monetari, in controvalore, in dollari, sul mio Bitcoin. Cioè ipotizziamo che il Bitcoin scenda del 50%, io qua vado in perdita del 50%. Non in termini quantitativi di Bitcoin ma in termini qualitativi, cioè di valore. Ipotizzando di aver preso un Bitcoin a 100 dollari, se mi scende del 50% io qua ho 50 dollari in portafoglio. Di qua sono andato short però contemporaneamente ipotizziamo sempre col BTC. Quindi cosa succede? Che il prezzo scende ma di qua mi sale. Quindi sono in profitto di 50 dollari. Sommato 1 e 2 siamo tecnicamente neutri sul mercato. Ecco perché quello che ho perso una parte l'ho riguadagnato dall'altra. Ma ho fatto trading volume. E questo trading volume mi ha portato sui livelli, mi ha portato sulle Spark e di conseguenza mi permette di, uno, avere un interesse comunque sui Bitcoin che ho parcheggiato, due, minare nuovi Bitcoin. Questa è la strategia. Ora però bisogna fare un po' di conti. Perché lo short di copertura per essere efficiente, cioè per essere utilizzato bene in questo caso, in questo caso, necessita di utilizzare come collaterale il nostro asset. Perché se io ho, ipotizziamo 1000 dollari, di cui 500 sono in Bitcoin e 500 sono in dollari. Quindi 500 non BTC, 500 dollari in Bitcoin. Se io adesso vado short con questi, con questa cosa qui, io in realtà sto aggiungendo altro capitale. Altro capitale che sto spostando per fare questo lavoro qui, che non va bene. Quello che voglio fare io in questo caso è, supposto che io abbia già dei Bitcoin, utilizzare loro stessi per aprire i miei short di copertura. Quindi che cosa farò? Utilizzerò questi miei Bitcoin che ho già, come collaterale, piuttosto che questi dollari, che sono lì, che mi generano degli interessi, che utilizzo per ricoprire le fee dei long short che vado ad aprire. Farò operazioni scalping, quindi di un'ora massimo, roba molto veloce, tac, 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 sul mercato martellante. Perché l'obiettivo, ti ricordo, non è guadagnare con il trading, in questo caso, ma cercare di ridurre al minimo le perdite. Cioè cercare di rimanere il più possibile neutri sul mercato. Se si riesce a guadagnare qualcosina, meglio. Per chi è più bravo che sa far trading, meglio allora in questo caso. Altrimenti comunque rimanere il più possibile neutri sul mercato in termine di controvalore. Non di quantità di Bitcoin. Perché se noi ora utilizziamo Bitcoin come controvalore, cioè per poter, come margine, per poter operare, se io perdo, perdo Bitcoin, se vinco, guadagno altri Bitcoin. Quindi ancora una volta, non stiamo parlando della quantità di Bitcoin in portafoglio, ma stiamo parlando del controvalore. Cioè il mio gioco è avere un controvalore sempre il più possibile neutro, in modo da poter continuare ad andare avanti, fare volumi, 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 e guadagnare quindi a tutto il resto ci siamo detti. Lo so che sembra incasinato, ma andremo a vedere tra pochissimo come funziona nella pratica, perché lo farò qui in live. Ti spiego questa tabella. Allora, come ho scritto qua, tutti i campi in azzurro sono modificabili. Tutto il resto non modificarlo assolutamente. Qui sceglieremo la leva. Ora, non ha senso per noi, in questa strategia, esporci con tutto il capitale. Cioè se io ho un Bitcoin, per me non ha senso utilizzare un Bitcoin come collaterale per aprire una posizione, perché poi questo qui sarebbe il nostro livello di rischio. Ha senso utilizzare il moltiplicatore, si chiama qua su Yodler. Quindi io utilizzerò per esempio 0,2 Bitcoin con un moltiplicatore, ipotizziamo, di 5 per aprire il mio Bitcoin. Dove sta il gioco? Il gioco sta che io sto utilizzando i miei Bitcoin. L'operazione sarà da fare veramente velocissima. È un'operazione scalping, quindi bisogna mettersi lì, ci si perde un po' di tempo e si gioca piano piano. Di qua sto utilizzando questo, cioè questo è il mio margine di rischio. Se venissi liquidato, perderei questo. Se dall'altra parte vinco, vincerò dei BTC in più a seconda di quanto sto vincendo e così via. Ricordo, l'obiettivo non è vincere più Bitcoin possibili, ma fare volumi. Quindi è questo quello che ci interessa a noi. Ci interessa fare dei volumi, non ci interessa andare a vincere dei Bitcoin in più. Ci interessa rimanere in pari almeno, non in perdita. Questa è la cosa più importante in assoluto. Quindi ti ho creato in questa tabella un'idea. Tu qua vai a mettere il nostro moltiplicatore. Se utilizzi un moltiplicatore 5, sappi che la tua liquidazione sarà a meno 20%. Quindi se apri a 100, se scende di un 20%, quindi arriva a 80, ti viene chiusa la posizione e viene liquidata. Se qua ci metti un moltiplicatore 10, in automatico ti calcola a che punto sarà la liquidazione. Se ci metti un moltiplicatore 30, sarà più vicina. Se metti un moltiplicatore 1, ovviamente è come essere spot, quindi non cambia nulla. Anche se su Yoder non si può mettere 1, si può mettere solo 2, ma non ha senso, come ho detto, proprio a livello logico. Magari in un prossimo video ti faccio vedere bene nel dettaglio questa cosa dello short di copertura, perché è un po' una lama a doppio taglio, bisogna fare molta attenzione. Noi comunque utilizzeremo per esempio il moltiplicatore 5, qui selezioni che moltiplicatore vuoi, e poi qua io ti ho già preparato dei file, come puoi vedere qui, delle tabelle con short di copertura 5x, 10x, 20x, 30x. Il massimo che ho usato è un 30x. Mediamente utilizzo un 20x. D'altra parte, short di copertura calcolato in dollari, qua è calcolato in bitcoin, qua è calcolato in dollari. Cosa cambia? Cambia che se tu vuoi crearlo a partire dai tuoi bitcoin, qua inserisci quanti bitcoin hai in portafoglio, ti dice quanto dovresti puntare per ogni operazione. Di qua ti dice il margine che tu stai usando, quindi puoi decidere se usare l'1%, il 2%, il 3% del tuo margine. Quindi se io ho un bitcoin, l'1% di un bitcoin sono 0.01. Per una leva 5 significa che io apro una posizione totale di 0.049 bitcoin a fronte del mio bitcoin totale qui. Cosa succede? Che sto aprendo con una posizione del 5% più o meno, perché ho tolto anche delle fee che ho calcolato io medie sullo 0.5%. Ci sono le fee del moltiplicatore che però vengono, la prima ora mi pare non si pagano, quindi motivo per cui nella prima ora io semplicemente vado a chiudere le posizioni il più in fretta possibile, perché non mi interessa stare aperto sul mercato a lungo, mi interessa solo fare volumi gratis. Questo è il gioco. Qui ti mostra man mano che sali, più percentuale, più capitale usi, a leva quello che succede. Ovviamente se utilizzi il 20% del tuo capitale, quindi 0.2 BTC moltiplicato per 5, arriverai a 0.995, quindi quasi il 100%, nel leva 10 vediamo fino a 10 e così via. Ovviamente al 5 su una leva 20 ti scatta poi la liquidazione e così via. Questo è quello che vedrai però comunque guardando bene questa tabella. Di qua in termini monetari, perché ti è magari un po' più semplice capirlo in termini monetari, ti ricordo, questo l'ho fatto più che altro, perché tu qua inserirai il tuo investimento, quindi esempio io ho 0.5 BTC e qua ti calcola tutto a seconda di quello che vuoi fare, se lo shorti copertura a 5, da 10, da 20 o da 30. Non andrei oltre, io mi terrei su questi qua. Ora il calcolo in dollari è semplicissimo, ipotizzate di avere 100 dollari di BTC e mettiamo un rendimento del 0%, ovviamente abbiamo 0%, quindi qua se sto facendo solo holding avrei 100 dollari in portafoglio, se poi vado short con queste quote qui in ogni caso sono più o meno sempre a 100, vado a pagare delle commissioni, però lo short se è a 0 rimane tutto a 0. Cosa succede se vai in negativo la posizione? Beh se vai in negativo per esempio del 50% abbiamo una copertura o meglio un capitale totale netto, nel primo caso, quindi l'holding saremo da 100 dollari, ci troveremo a 50 dollari. Man mano vediamo che utilizziamo più capitale con una leva sempre 5, andiamo a ricoprirci, cioè se uso il 20% del capitale, leva 5, mi cala del 50% o più o meno ho salvato il mio capitale. Queste percentuali qua dipendono dal tuo livello di esposizione. Personalmente, visto che siamo in uptrend, che quindi Bitcoin sta andando su, io non andrei a scommettere contro un asset che tende a crescere. Nel breve termine magari ci sono delle flessioni e va bene, però tendenzialmente non ci andrei a scommettere contro. Ecco perché uso degli short molto bassi, quindi compro, metto in holding il mio Bitcoin e utilizzo in media più o meno questi livelli qua. Quindi cerco di stare tra un 19 barra 34%, che significa un 4-7% del mio capitale in holding, moltiplicato per la leva. Cosa succede man mano che si sale con la leva? Ovviamente con un capitale dell'1% leva 5, io ho praticamente circa 5 dollari che sto investendo sui 100. Di qua, capitale 1% leva 10, sono 10. Quindi diventa sempre più via via, come vedi ci sono sempre meno voci. Qua va dallo 0 al 20%, dallo 0 al 10, dallo 0 al 5, dallo 0 al 3. Quindi man mano che aumento l'effetto moltiplicatore, va via via a ridursi la quantità di margine che posso utilizzare, che è la quantità di margine che io rischio. Cioè io quello che sto rischiando è il mio margine in queste operazioni. Quindi io sto, come vedi, cercando di rischiare il meno possibile ad una leva più alta. È vero che è più vicino alla liquidazione, però è anche vero che il mio rischio è più controllato, è questo. Perché se io ho, esempio, facciamo un calcolo pratico, andiamo a prendere un calo del 50% qui con un margine di 2 dollari. Quindi ho un 2%, moltiplicato per 5 significa 2 dollari. Se Bitcoin mi scende del 50%, il mio guadagno è di questo qui, 5 dollari, quindi la metà di quello che ho investito. Il rischio è ovviamente sempre questi 2 dollari in termini quantitativi. Se io vado giù e sparo per esempio una leva 20 e uso sempre 2 dollari, io qua sto aprendo 39 dollari. Quindi se va giù del 50% vado a prendere 7 dollari e 96 contro i 5 dollari. Però ancora una volta il nostro gioco non è guadagnare dallo short, ma cercare di coprirci il più possibile, o meglio perdere il meno possibile. A noi interessa questo. Cioè ci interessa perdere meno margine possibile a fronte di un volume più elevato possibile. Io qua con un margine di 2 ho aperto un volume di 39 dollari, quindi ho preso più spark, ho fatto più volume e quindi sono più vicino al mio traguardo. Nell'altro caso invece molto meno. Ecco perché uso questa leva. Non vado troppo in là perché già con una leva 20, come abbiamo visto la mia liquidazione è del 5%. Quindi se Bitcoin sale del 5% mi liquida. Cosa significa? Te lo mostro subito. Mettiamo per esempio qua più 5%. Ovviamente con una salita del prezzo del 5% vediamo che nell'ultimo livello, e succede sempre negli ultimi livelli, quello che tu hai utilizzato come margine 5 dollari viene compensato con la perdita, no? Perché sono 4,98 più le fee. Qui le vedi esattamente quanto hai dopo le fee. 4,98 meno 4,98. Quindi qua ti è stata liquidata la posizione. Però nel caso di liquidazione cosa hai perso? Hai perso 5 dollari. Hai perso 5 dollari. Il prezzo è salito però del 5%, quindi da 100 è passato a 105, meno i tuoi 5 dollari, più qualcosina magari di commissioni se vogliamo, sei comunque neutro sul mercato. Ecco perché utilizzo una leva un po' più ampia, considerando che tendenzialmente Bitcoin non si muove con questo tipo di oscillazione di un 5% nel giro di un'ora. Tendenzialmente lo fa, lo fa perché l'ha già fatto molte volte, ma tendenzialmente non lo fa. Veniamo al dunque, vediamo nella pratica come lanciare questa strategia. Allora io vado qua su Yodler, vado nel mio portafoglio. Attualmente ho, come vedi qua, un bilancio totale di 1733 dollari. Andrò a utilizzare, qua ho Bitcoin, ho esattamente 408 dollari di Bitcoin, questa quantità di Bitcoin. Io andrò a convertire, per fare prima, questi miei USDC, quindi clicco converti. Li converto tutti in Bitcoin, tutto, 100%, pagherò 3 dollari, quindi pago 3 dollari. Questa conversione mi ha generato comunque un volume. Quindi qua vedremo un volume. Perché? Cosa importante, le scintille come si guadagnano. Come puoi vedere, abbiamo o nello scambia, quindi fare trading, ci genera circa una scintilla ogni 100 dollari di volume, o nel converti idem. Quindi sempre, ancora una volta, una scintilla ogni 100 dollari di volume. Adesso ho cambiato, quei volumi sono 47.1k, quindi segniamoceli qua da parte. 47.1k sono i volumi, e poi il saldo totale nel portafoglio, ok, il 1724 sta scendendo Bitcoin, 1724. Questi sono i volumi, e questo è il capitale totale. Quanti Bitcoin ho? Andiamo a vedere, ho in totale 0.01837. Quindi torniamo nel nostro file, e usiamo per esempio leva 20, mettiamo qua 0.01837. Poi questo qui ora lasciamo da 0, non ci interessa. Quanto capitale voglio utilizzare per ogni operazione? Prendiamo per esempio l'1%, quindi andremo praticamente a utilizzare un 20% con leva 20 rispetto al capitale totale. In questo modo se Bitcoin sale, io non sono esposto al 100% con lo short, quindi ho comunque una discrepanza di guadagno. Perché? Perché se fosse al 100% viene totalmente compensato. Invece io qui, visto che siamo in un uptrend, voglio cercare di mantenere il mio bilancio totale in positivo o comunque neutro, andrò a utilizzare una piccola quantità. Quindi copio, torno di qua su YouOdler, e vado a lanciare la mia strategia. Allora siamo a 17.24, MultiOdler, scelgo la mia posizione, prendiamo per esempio Bitcoin, qua fa tutta una serie di posizioni aperte, chiuse e così via, ti mostro come crearla da 0. Scegliamo Bitcoin, scegliamo Vendi, perché io voglio andare short, quindi vi dico Vendi. Inserisco la quantità di Bitcoin che voglio shortare, che è questa qui, sono circa 14 dollari, come puoi vedere qui, che utilizzo miei, quindi il mio margine. Il moltiplicatore metto 20%, quindi clicco 20%, poi guardo dove ci troviamo, questo se voglio fare giusto una sorta di scalping rapido, potrei entrare e mettere magari un Take Profit qui a 76, 135. Posso usarli, possono usarli, come voglio. Quindi qua io adesso vado a mettere 76, cos'era? 135. E diciamo Vendi. Voilà, mi ha aperto la posizione, ora siamo in perdita. Ora io potrei già chiuderla volendo, oppure aspettare, andare un po' in profitto e chiuderla. Ricordo, man mano che perdo, perdo che cosa? I miei Bitcoin. Man mano che vinco, vinco che cosa? Vinco sempre Bitcoin. Quindi anche questa è una cosa importante a tenere in considerazione. Ora per esempio, l'operazione mi sta andando contro, sono in perdita di 25 centesimi, ma siccome abbiamo aperto una quota che è un 20% più o meno del capitale, se io vado adesso a vedere di là su Bitcoin, il mio portafoglio ha un controvalore più alto, perché Bitcoin sta salendo e io sto usando solo il 20% dei miei Bitcoin per aprire lo short. Andiamo a vedere nel Cloud Miner, intanto il capitale è passato a 48.3, da 48.1. Torniamo nel multi-odd, qui intanto la posizione sta scendendo, ho messo il mio take profit, volendo posso andare anche a chiuderla poi io manualmente se voglio adesso. Però voglio aspettare, torno un pochino in positivo e chiuderla. Voglio vedere anche dove è la mia liquidazione stimata. Come puoi vedere qua, la perdita massima qua è di 0.0001 BTC, che se andiamo a vedere qui, è esattamente il nostro margine, rispetto alla nostra posizione totale, che è più ampia. Ora vediamolo lì che si muove. verremmo liquidati a 79.366 dollari. Quindi quando Bitcoin raggiunge 79.000 dollari, veniamo liquidati. Quindi la liquidazione, non avendo usato un moltiplicatore troppo elevato, ma relativamente medio, è abbastanza lontana. Ricordo, rispetto al prezzo attuale, il moltiplicatore, eccolo qua, con un moltiplicatore 20, la liquidazione è del 5% rispetto al prezzo totale. Quindi è abbastanza ampia per andare a giocare su appunto uno short term rapido. Siamo ancora in perita attualmente di 0.20, quindi attendiamo che vada un pochino giù o possiamo semplicemente chiudere la posizione, poi in qualsiasi momento, se vogliamo chiudere, la possiamo chiudere senza problemi. o aprire altre posizioni. Esempio, se ora volessi aprire un'altra posizione sempre con lo stesso importo, posso farlo. Faccio così, faccio di nuovo vendi, faccio di nuovo l'iter di prima, quantità, sempre la solita, moltiplicatore sempre 20, andiamo giù, take profit possiamo metterlo più o meno sempre a 76, 135, 76, 135 e diciamo vendi. E voilà, ne abbiamo adesso un'altra attiva. Anche qui aspettiamo un attimo e vediamo come va. Man mano che sto facendo questa operazione, adesso qui avrò il doppio del capitale ovviamente impegnato, ma è giusto per lanciarle insieme. Io generalmente ne faccio una alla volta, non ne lancio di più, però ne ho lanciate due insieme per farti vedere che cosa, che magari se uno arriva in profitto lo andiamo a chiudere già adesso in profitto, però potre anche già chiuderla. Siamo a meno 0,48 come vincita e qua siamo a un 17,25. Di qua nel cloud miner abbiamo 48,6 quindi se facciamo un po' di operazioni così e andiamo a a divertirci un pochino, quindi andiamo a salire pian piano. Ecco qua, ora inizia a scendere, la perita attuale come vediamo qui di 0,00002 e 00,0001. Questa qui si sta avvicinando al nostro profitto, eccola qui. Quindi ora che si sta avvicinando al profitto noi potremmo andare volendo già a chiuderla. Aspettiamo un attimo, magari eccolo qua, questa è in profitto, ora non ci compensa tra l'altro anche l'altra, quindi io posso andare a chiuderla volendo in profitto o aspettare che vada a toccarci il nostro 76,135. Dipende poi come ognuno vuole lavorare. Ora io la chiudo veloce perché voglio andare a aprirne altre. Eccola qui. Ovviamente anche il chiudere la posizione mi calcola volumi. Quindi ora sta scendendo i voli. Va bene, abbiamo già liberato un po' di volume. Ecco, andiamo a guardare. Vedi, siamo già saliti. Ripeto, è facile da vedere come la sto eseguendo, sembra molto facile, ma poi da eseguire richiede pratica. Ora qua siamo in perita, siamo 17,23,97 perché è sceso un pochino bitcoin ovviamente. Se utilizzo un capitale più alto vado a coprirmi di più. Chiaro. Ora io vado a aprire un'altra posizione identica, sempre con lo stesso capitale, vendi, short, tac, sempre moltiplicatore 20, mettiamo 76, 121, ah quindi mi ha colpito l'altro take profit, penso. Mettiamo allora più o meno qui, 76,059 take profit, 76,059 vedi. Eccolo là. Quindi anche questo è aperto, non mi ha aperto, qua ma non mi ha chiuso qua e da sopra sta arrivando. Allora possiamo mettere 76,135 anche in questo. Take profit, 76, 135 anche per lui. E voilà. Poi man mano che risale, vedi qua va a aumentare il bilancio, intanto con un paio di operazioni così siamo arrivati a 49,002 quindi siamo quasi a 50k. Eccola qui, questa qua è già in positivo, aspettiamo che compensi magari quella lì e la chiudiamo. Quindi si può o fare questa strategia una posizione alla volta, oppure splittare in due il capitale e avviare due o tre posizioni alla volta in modo da colpire come fosse un buy the dip, tre virgolette, però a rialzo più livelli man mano che si va avanti. Quindi questo è uno dei sistemi che si può utilizzare. Eccola qua, questa sta andando adesso in positivo, quella lì è in negativo. Eccola qua, ha compensato. Quindi io potrei ora chiuderla. Tac. e chiuse tutte e due, mi ha incolpito il take profit. Perfetto. Quindi ora, qua il bilancio è in perdita perché è sceso il bitcoin, però vediamo qui, magari ce lo scriviamo qua da parte. Io ho in portafoglio 0,018371 BTC. Ora facciamo la nostra operazione nuovamente, multi-oddle, e vediamo come cambia il nostro valore. Tra l'altro penso abbiamo già raggiunto ormai il livello che c'eravamo prefissati, ora bitcoin è in una situazione ok. Trading view possiamo anche utilizzare volendo, te lo mostro giusto per. Vendi. Stesse quantità di nuovo, uguale. Uno di qua, moltiplicatore 20. Come vedi siamo già silver, ora mi dice che dobbiamo passare al gold. Quindi diciamo take profit lo mettiamo a 76 tipo qui, 76 e 112, mettiamola a 76. e 100. Possiamo anche decidere da qua, 0.02, 0.01, tanto ci mostra tutto. Vendi. Voilà, aperta. Ora siamo in perita, andiamo a vedere nel cloud miner come siamo messi. Ecco qua, ci ha sbloccato il silver, livello account silver. Ora che ci ha sbloccato il silver, come vedi abbiamo un sacco di robetta qua che possiamo minare per estrarre i nostri bitcoin. Abbiamo 1183 scintille, abbiamo 32, 32, 32, 32, 32, tutto così e possiamo andare ad accumulare altri bitcoin. Ci dice tra l'altro che possiamo andare a giocare sul gold, siamo a 67 dollari di volume contro i 150 richiesti. Proviamo a spingere ancora e così saliamo e vediamo un po' cosa succede. Multi-odl, intanto la nostra posizione è lì, possiamo anche aprirne un'altra per mediare. Vendi. Ok, sta salendo un pochino, perfetto. Tac. Ora, cosa è importante, vedi che sta salendo, ah non avevo segnato la quantità, vediamo se riesco a recuperarla, eccola qua, 0018371, abbiamo adesso di bitcoin, come vedi, 0018187, perché? Perché abbiamo una posizione aperta, quindi qua non ci mostra tutto il capitale totale, lo andiamo adesso a rivedere di là. Il controvalore, siamo di nuovo tornati sui 1724, 1725 perché sta salendo bitcoin. Ora cancelliamo qui, se io adesso chiudessi questa posizione qua, avrei la perdita di 000004, non chiudiamola, apriamo in un'altra e vedrai che scala questo capitale qui, quindi questo è per dirti non ti spaventare se vedi qua, man mano che ti calano i bitcoin. Comunque siano, è quello che interessa avere un controllo, allora è sempre più o meno neutrale. Di nuovo bitcoin, vendi, ripeto, sembra semplice perché lo sto facendo, perché io so cosa sto facendo, quindi mi raccomando, bisogna fare attenzione. Apriamo ora, chiudiamola per esempio qui, a 76,135 nuovamente, take profit, 76,135, vendi. Voilà. Ora se torniamo nel nostro portafoglio vedrai che sono diminuiti perché li stiamo impegnando, stiamo dando del margine. Il margine totale che abbiamo dato è 28 dollari, quindi stiamo usando 28 dollari, più o meno 14 dollari per ogni ordine, 28 dollari totali di margine che se bitcoin adesso parte e mi va a, abbiamo detto, come liquidazione di questa posizione è, eccola qui, 79,000 perché decide di andare a 79,000 di colpo, mi liquida 28 dollari. Però, io qua sono esposto con un capitale con un 40% più o meno, quindi il portafoglio man mano che sale è chiaramente protetto. Vediamo nel cloud miner, siamo a 348 dollari di volume in un paio di operazioni. È una rottura di scatole mettersi lì pian piano a fare? Sì, ovviamente io adesso qua se voglio caricare 5,000 dollari e fare questo gioco a un 5,000 dollari scalo molto più velocemente e anzi probabilmente lo faccio. Ora qui siamo messi così, siamo attualmente in perdita, aspettiamo, abbiamo impostato il nostro take profit, quando tornerà un pochino giù saremo a posto. Possiamo anche aprire e chiudere immediatamente. Magari, guarda, facciamolo ancora con una, facciamo bene i conti però perché se no ci sovraesponiamo, ho aperto questa quantità qui però per 2, quindi sono un 20%, sono un 40%. Se adesso andasse ad aprirne un'altra così, un altro 20%, arriverà a un 60%, quindi inizia a essere pesantuccio, quindi mi tengo tranquillo qui dove sono e aspe, cerco di non usare, di espormi troppo in modo, ovviamente se il prezzo mi andasse troppo in su qua scenderei, scenderei parecchio e non è cosa che mi interessa. Tra l'altro, conto deposito un reddito, richiedi premio, posso richiedere il premio qua? Ah, perché è passato il mio livello, è scattato in su il mio livello, quindi posso utilizzare il nuovo, il nuovo livello. Man mano che scali di livello, ti sblocca anche i nuovi premi, questo non lo sapevo. Ecco, esempio, su PaxColdo, 3.5, su Bitcoin un 3.5, sui West DC ho un 9%, io faccio questi giochi, poi riporto la mia percentuale, qui ho 400 dollari Bitcoin e 1000 in West DC, riporto i miei 1000 dollari qua e riparto, poi li lascio lavorare con il loro 9% di interesse e poi li riporto dall'altra parte. Posso selezionare 4 asset, seleziono anche i VET che mi sono avanzati dall'arbitraggio che avevo lanciato, quindi selezioniamo anche loro e guadagniamo interesse anche su quelli. Qui, vedi, iniziano pian piano ad accumularsi gli interessi e poi vengono pagati settimanalmente a meno che non scaliamo di livello. Vediamo il multi-odd come sta, siamo ancora in negativo, vediamo il grafico, potremmo aprire ancora un'altra posizioncina magari dai. giusto per far correre di più. Ingagniamo il tempo. Tac. 20. Non bisogna farsi prendere la mano, io lo sto facendo ora, sto giocando con voi, però lasciamo sempre 76, 135, sì. 76, 135. Short. Ora siamo a 42 di impegnati, quindi inizia a essere un pochino più alto. Cloud miner ogni volta, tac, 6,28 e va piano piano a salire. Quanto dobbiamo arrivare qui? Allora, per il gold dobbiamo fare 150k. Ok. Ora mi sa che carico un pochino di liquidità e spingiamo. Vediamo tutte le posizioni, è molto comodo comunque da gestire, come vedi le posizioni sono molto molto comode da gestire, perché ce le è tutte qui, sono tutte in chiaro, non è troppo complesso come tanti altri exchange, quindi questo tipo di gioco qua su Yodler è sicuramente interessante da lanciare, da applicare. Non so anche se intanto lanciare o no già qualche blocco, prendere qualche blocco. Allora, questo è il premio massimo raggiungibile, 32 per blocco, potrei anche iniziare a minarmi qualcosa. Quanto tempo ci vuole? Vediamo se si può far vedere in live, o ci vuole troppo tempo. Allora, non c'è scritto quanto è il mining di ogni blocco in questo caso, perché man mano che si sale di livello, più o meno veloce è il mining. Ok, qua intanto le posizioni ci stanno girando a favore. Vediamo che con questo calo di bitcoin attuale, nonostante questo calo qui, eccola qua che inizia ad andare in positivo, vediamo, quindi andiamo a chiudere lei. Yes. Anche se c'è il take profit, la chiudo veloce perché almeno vediamo il bilancio. Ok, poi c'è ancora questa qui aperta, ci manteniamo più o meno sempre su quel livello lì, ma i bitcoin cambiano. Ora vediamo questa qua, se passa in positivo o no. In frattempo Cloudminer, siamo saliti già a un K, e sto utilizzando praticamente un K per operare, perché stiamo, cioè un K, sto utilizzando, sono 1300 in totale che abbiamo qui, 1400, stiamo usando circa 4, 5, 600 dollari per ogni operazione. Ok, ora vediamo se ci passa in positivo, se no la chiudo è negativo così, tanto abbiamo accumulato 0,1 qua, 0,1 qua, chiudo questa a 0,1, e mi rimane uno 0,1 di guadagno. Quindi, questo è comunque il succo no della strategia. Da, scendi un pochino, così chiudiamo in profitto, bravo, no eh, va bene, chiudiamo in perito lo stesso, non importa. Andiamo a vedere il nostro portafoglio, eccolo qui, come puoi vedere, siamo da 18,37,1 che avevamo, attualmente abbiamo 18,37,3, quindi abbiamo aumentato di qualche punticino, perché abbiamo fatto delle operazioni cine veloci. Qua intanto il bilancio è sempre così, se Bitcoin ora sale, qua sale, se scende, scende. Cloudminer, di nuovo, va piano piano a salire. Quindi giocherellando in questo modo, io posso andare ad aumentare il mio volume di trading, contemporaneamente parandomi, avendo in holding l'asset. Quindi posso usare il mio asset in holding, per giocare sui volumi, e quindi sgraffignare i nostri Bitcoin gratis nel Cloudminer. Per ottenere ovviamente poi, i nostri premi, basta cliccare, clicchiamone uno, ecco qua, tra un'ora e 59, mi arriverà qualcosa, vedremo poi che cosa, che cosa ci arriva. Qua sotto ti lascio, ti ricordo, il link di YouHodler, ti puoi registrare gratis, il codice è DEMSPARC, devi utilizzare questo codice qui, scriverlo in fase di registrazione, altrimenti non avrai nulla. Se invece lo usi, avrai 50 SPARC gratuiti, quindi potrai già iniziare a ottenere dei Bitcoin tramite il Cloudminer. E ti lascio anche il file che ho costruito qua sotto, sempre nella descrizione, in modo che tu possa sapere esattamente che cosa stai facendo. ti esorto a fare estrema attenzione, perché i rischi qua sono molteplici. Il primo rischio è ovviamente quello dell'utilizzo del trading, perché il trading comporta dei rischi, soprattutto su asset volatili. È vero che non è trading vero e proprio, perché comunque ci giochiamo, perché il nostro obiettivo abbiamo detto non è fare profitti col trading, ma giocare su altro, però è comunque un rischio che va tenuto in considerazione. E punto 2, il rischio della piattaforma. È vero che Uodler è correttamente registrata, ha anche una sede tra l'altro in Italia, è ultra regolamentata, compliant a tutte le norme, quindi è un'azienda solida, però ancora una volta bisogna comunque fare attenzione perché stiamo utilizzando un exchange. Questo vale per qualsiasi exchange, dai più piccoli ai più grandi. Questo è un disclaimer in più che chiaramente devo fare. Comunque qua sotto ti lascio tutti i dettagli, ti ringrazio per essere stato qui con me, fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti, se hai altre domande, altre cose, scrivimene sempre qua sotto. Spero che questa strategia ti torni utile e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.